36 positivi in più al coronavirus in 24 ore sono numeri preoccupanti quelli registrati in Friuli, Venezia e Giulia. Le persone attualmente positive al coronavirus in regione sono 254, 24 in più di ieri, due sono i pazienti che risultano in cura e in terapia intensiva e nove sono quelli invece ricoverati in altri reparti. Non si registrano fortunatamente nuovi decessi che in totale restano 348. Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono ben 3583, 1447 a Trieste, 1112 a Udine con un incremento nella sola giornata di oggi di 10 casi, 783 a Pordenone e 237 a Gorizia alle quali si aggiungono quattro persone da fuori in regione. I totalmente guariti invece ammontano a 2.981, i clinicamente guariti sono 11 e le persone in isolamento sono 232. Analizzando invece la situazione attuale a livello nazionale i contagi da coronavirus sono aumentati di oltre il 140% nell'ultimo mese. A darne notizia la Fondazione Gimbe confrontando i 3.399 nuovi casi rilevati dal 12 al 18 agosto con i 1.408 della settimana fra il 15 e il 21 luglio. Si conferma così il trend in progressivo aumento dei nuovi casi, siano essi autoctoni, di importazione o da rientro di italiani andati in vacanza all'estero con un incremento che inizia a riflettersi progressivamente sull'aumento delle ospedalizzazioni.